Vi siete mai chiesti con quale benzina funzionano gli aerei? Perché in qualcosa devono bruciare i motori. Sono motori a pistoni come quelli delle macchine, almeno per quanto riguarda l'aviazione generale. Poi ci sono i jet, con i motori appunto a jet, ma anche loro devono avere del carburante. Sono sicuro che molti di voi immagineranno che quel carburante si fa in aeroporto, ed è effettivamente per la maggior parte vero. Ma oggi parliamo di carburanti degli aerei, le differenze con quelle delle macchine, interscabbiabilità e cose varie. Allora, spoiler di tutto il video, gli aerei vanno a benzina e diesel. Così come le macchine. Il diesel è un diesel un po' più raffinato, più verso il kerosene in realtà, come composizione. La benzina è una benzina più controllata e con un maggiore potere antidetonante, adesso ci arriviamo. Però essenzialmente benzina e diesel. Ma in questo video vorrei procedere per gradi, dai carburanti più semplici a quelli dei motori jet. Partiamo da quelli più semplici, partiamo dagli aerei ultraleggeri, che sapete essere quelli inferiori ai 600 kg, diciamo, anche se fino a poco tempo fa in Italia erano 450 kg. Comunque aerei ultraleggeri. Quelli vanno alla benzina che nel modo dell'aviazione chiamiamo MOGAS. Che cos'è il MOGAS? È la benzina verde che fa il distributore all'angolo. MOGAS starebbe per Motor Gasoline, cioè benzina del motore, ed è semplicemente appunto la benzina che usano le macchine. Quella 95 ottani, la benzina verde. Quanto costa? 1,8? Non so, la macchina a gas, quindi non faccio mai caso al prezzo della benzina. È molto comoda perché sia costa meno, sia puoi fartela da solo. Nel senso, ti carichi le tanniche in bagagliaio della macchina, vai in macchina al distributore, ti riempi le tanniche, arrivi al tuo aereo, ci scodelli dentro la benzina, fai tutti i controlli per vedere che non contenga impurità, che non contenga acqua, che non contenga contaminazioni di altri tipi di carburanti, adesso ci arriviamo, e poi te ne vai in volo. Per tutti gli altri aerei, invece, a parte gli ultraleggeri, non si usa il Mogas, non si usa la benzina da motore, non si usa la benzina da automobili, perché è molto meno controllata. E essendo molto meno controllata, è anche molto più pericolosa. Io ho personalmente esperienza di aver rotto pezzi del motore della macchina per una benzina variata che mi aveva dato un distributore una volta. Capita, insomma, sono sicuro che, se non molti, alcuni di voi sarà capitato di fare della benzina un po' marcia, un po' sfigata, e poi dover andare dal meccanico a cambiare pezzi del motore. O magari conoscete qualcuno a cui è successo. Ecco, una cosa del genere, se ti capita in macchina, boh, cioè in qualche modo ti tiri sul lato della strada, se il motore proprio muore, tiri il freno a mano, chiami il carroattrezzi, fai qualcosa. Se sei su un aereo, non benissimo. Ed è per quello che negli aerei si fanno tutta una serie di check ogni qualvolta possibile per, appunto, controllare la purezza della benzina, eventuali contaminazioni e presenza di acqua. L'acqua non la metto tra le contaminazioni, perché l'acqua potrebbe essere semplicemente il vapore che si condensa e poi va a fondo perché l'acqua è più pesante della benzina. Comunque tutti gli aerei, di aviazione generale almeno, hanno sulla parte inferiore delle ali, perché negli aerei, spoiler, le ali sono il serbatoio, il carburante negli aerei è contenuto nelle ali, sempre. E proprio nella parte inferiore delle ali, spesso c'è un piccolo ugello, dove se tu arrivi con un particolare recipiente fatto apposta, una pompetta, non neanche una pompetta, proprio un beccuccio che si infila lì, l'ala ti butta fuori un po' di benzina e quella benzina la stai prelevando dal fondo, quindi se ci sono impurità o acqua o qualcosa che era dentro al serbatoio, è lì che si è accumulato e tu, nel tuo recipiente, lo vedi. Insomma, si fanno tutti dei test proprio per andare a verificare la purezza. E questo si fa anche per l'avgas, al quale adesso arriviamo, non solo per il moggas, però diciamo che per il moggas è più importante perché se lo fai distributare all'angolo, ci sono molte più cose che possono andare storte. Passiamo all'avgas. La radice è sempre gas, di gasoline, quindi benzina, però il prefisso è av, quindi per l'aviazione. È benzina pensata specificamente per l'aviazione e costa un botto di soldi. Adesso arriviamo anche al numero di ottani, eh. Prima voglio spiegare che concetto rappresenta. Però in linea di massima, l'avgas è certificato per quanto riguarda il contenuto di energia, cioè quanta energia puoi tirare fuori da quel carburante, gli additivi, che devono essere additivi approvati, la volatilità del carburante importantissima, cioè a quali temperature evapora e tutte cose, meno residui gommosi all'interno della benzina e stabilità in storage. Cioè che è più difficile che marcisca se sta là. Ma l'elefante nella stanza, la cosa più importante è il numero di ottani. Allora, cosa mi rappresenta? Sapete che anche al distributore, quello normale per le macchine, c'è la benzina normale, che è 95 ottani, e poi volendo c'è quella che paghi di più, però ti dà delle performance maggiori, che era 100 ottani e tutte cose. Ma cosa vuol dire? Allora, per come funziona un motore a combustione? Sapete che nel cilindro entra una miscela di aria e benzina, viene compressa dal cilindro che si sta muovendo, riducendo lo spazio appunto nella camera, e poi nel momento in cui la candela decide che è il momento di accendere quella miscela molto calda di benzina, perché è molto calda perché è stata compressa, nel momento in cui la candela decide di fare la scintilla e di accenderla, quella miscela deve bruciare a partire dalla candela in poi. Cos'è una detonazione? è se quella miscela si accende spontaneamente per la compressione, creando appunto uno scoppio, ecco perché si chiama detonazione, nel momento sbagliato. Nel gergo comune si dice che un motore batte in testa, cioè la miscela si accende nel momento sbagliato, e quindi spinge il cilindro nel momento in cui non era da spingere, e tutte cose. Quindi una benzina perfetta non dovrebbe poter detonare, cioè dovrebbe essere una cosa che tu puoi comprimere tranquillamente, e però si accende solo nel momento in cui fai la scintilla con la candela. Sfortunatamente questo sarebbe costosissimo proprio raffinare un carburante del genere, perché la benzina, come derivato del petrolio, è composta principalmente di due tipi di idrocarburo. L'enneptano, che diciamo ha potere antidetonante zero, cioè appena lo comprimi esplode da tutte le parti, e l'isoottano, a cui assegniamo un valore antidetonante di 100, perché se avessimo un bel recipiente di isoottano potremmo comprimerlo quanto vogliamo, e virtualmente non detonerebbe mai. Quindi il numero di ottani di una benzina non è tanto quanti ottani quella benzina contiene, perché sapete che nella benzina ci sono un sacco di altre schifezze, non c'è solo N-heptano e isoottano, ma ci sono anche un sacco di altre schifezze. Però il numero di ottani è quanto difficile è detonare quella miscela di benzina, qualsiasi roba c'hai, comparata a una miscela pura di N-heptano e isoottano. Vi faccio un esempio per dirla semplice. Benzina 95 ottani vuol dire che il suo potere antidetonante è uguale al potere antidetonante che avrebbe una miscela del 95% di isoottano e 5% di N-heptano. Molto semplice. Non contiene per forza 95% di isoottano e 5% di N-heptano, però ha un potere antidetonante corrispondente. Raffinare gli isoottani è costosissimo, quindi spesso si aggiungono additivi. Una volta sapete questo per le macchine era il piombo, c'era la famosa benzina al piombo. In realtà non piombo come metano, non è che si mettono in pallini del fucile da caccia dentro il serbatoio, ma è piombo tetraetile, quindi cose strane. Bene, per l'aviazione il piombo si usa ancora. Il nostro Avgas 100LL, questo è il nome completo del benzina. Avgas abbiamo capito cosa vuol dire. 100LL vuol dire che ha 100 ottani, quindi ha un potere antidetonante pari a quello di isoottano puro. LL sta per low lead, quindi ha basso contenuto di piombo. Basso vuol dire che c'è piombo, a differenza di quella delle macchine. Gli aerei inquinano un sacco. E comunque l'Avgas, essendo super certificato per tutte quelle cose che abbiamo visto prima, ed essendo una cosa che non trovi al distributore della strada, ma che trovi solo negli aeroporti, indovinate un po', costa di più. Costa molto di più della benzina verde, normale. Quei 5 ottani in più e qualche controllo, no. Ovviamente si fa per la sicurezza, ovviamente. Poi ovviamente dipende da aeroporto a aeroporto, i pezzi che fanno, così come i distributori. Una cosa interessante è che una volta, quando si poteva abbondare con il piombo, e con additivi strani, e c'era il piombo anche nella benzina delle macchine, l'Avgas arrivava fino a 145 ottani. E voi direte, com'è possibile? Se abbiamo fissato a 0 l'eptano e a 100 l'ottano, è semplicemente una miscela che aveva come potere antidetonante, una volta e mezzo, quello dell'ottano puro. Cioè, una volta che hai fissato la scala dal ptano all'ottano, puoi comunque spostarti anche oltre quell'intervallo. Vabbè, comunque era della benzina a livello di motore fantastica, a livello di Greta Thunberg, meglio di no. Tra l'altro il piombo non è uno schifo solo per l'ambiente, è uno schifo anche per il motore stesso, perché quel piombo tetra etile, con la combustione, tende a diventare piombo metallico. E tu non vuoi avere residui metallici, che si accumulano sulle pareti del tuo motore, perché ti sporcano la camera, ti imbrattano le candele, gli iniettori, le cose. E quindi, come additivo, nell'Avgas si utilizza il bibromuro di etilene, che semplicemente, se la combustione nel cilindro del motore avviene sopra i 427 gradi Celsius, questo bibromuro di etilene si lega con il piombo, diventa bromuro di piombo, che è un sale, se ricordo dalla chimica del liceo, e quindi solubile, e quindi è più facile espellerlo, sia con la nuova benzina che arriva a lavare via, al prossimo giro del cilindro, sia con i gas di scarico, insomma, lo butti fuori nell'ambiente. È meglio averlo nell'ambiente che nel motore, perché averlo nel motore potrebbe costarti la vita, però anche nell'ambiente non è bellissimo. Ultimo, ma più importante, signori, vi presento il Jet A1. Un diesel kerosene, so che non sono la stessa cosa, però anche per le macchine, quello che chiamiamo diesel è in realtà 75% di kerosene, quindi comunque è di quella famiglia. Chiamiamolo diesel, perché così mi riesce più facilmente il paragone con le macchine. Ha qualche differenza, però, rispetto al diesel delle macchine. Il diesel delle macchine ha un sacco di additivi, che hanno come unico scopo quello di lubrificare il motore. È molto più untuoso il diesel, perché deve lubrificare tutte le parti interne del motore. Invece il Jet A1 è molto più secco. Ah, non l'ho detto, ma ovviamente, dato il nome, Jet A1 si usa per i motori Jet, ma non solo. C'è qualche aereo di aviazione generale, con il motore a pistoni, che va a Jet A1, come se fosse un motore a diesel di una macchina. Anzi, spoiler, rubato proprio dalle macchine. Comunque, dicevamo, è meno lubrificato, e ha più alto contenuto di zolfo. Lo zolfo inquina, però fa comodo al motore averlo, così come il piombo. Adesso non sto a rifare tutto il discorso da capo, però il Jet A1 ha molto più contenuto di zolfo, rispetto al diesel delle macchine, nel quale l'asticella per il contenuto di zolfo si abbassa ogni anno, proprio perché inquina un sacco. In realtà non esiste solo il Jet A1, esiste il Jet A, che si trova tipo solo negli Stati Uniti, il Jet A1, che si trova in tutto il mondo, tranne nei paesi che rappresentano l'ex Unione Sovietica, e in Cina, perché semplicemente lì ha un altro nome, NG1 mi sembra. Vabbè, comunque è sempre di un diesel stiamo parlando, slash carosene. Così come l'Afgas, è molto importante che abbia temperatura di combustione spontanea e temperatura di evaporazione molto molto alte, e una bassa volatilità. Perché? Perché se lasciate la vostra macchina al sole per qualche giorno con il serbatoio abbastanza vuoto, poi quando arrivate lì con la pompa della benzina, il serbatoio fa un ruttino, sentite che si è accumulata pressione, proprio perché la benzina è evaporata e ci sono dei vapori di benzina che escono. Provatelo, potete anche andare lì con magari una penna o qualcosa a spingere per aprire il tappo del serbatoio, vedete che... Negli aerei questo meglio di no, perché dei vapori possono prendere fuoco spontaneamente, quindi esplodere tutto. Ci sono un sacco di problemi ad avere della benzina volatile che se ne va in giro, oltre che ti accumula pressione, non lo so, negli aerei c'è addirittura lo sfiato per i serbatoi, però quello è un altro discorso, ne parleremo un'altra volta. Comunque è uno sfiato che serve a equilibrare la pressione tra il dentro e il fuori, appunto. Tra l'altro, per come funzionano i motori jet, il carburante è meglio che arrivi un po' caldo alla pompa del carburante che lo va a immettere nel motore, e quindi il jet A1 viene addirittura scaldato prima di essere inserito nei motori jet. C'è proprio dentro i serbatoi degli aerei uno scambiatore di calore tra il carburante e l'olio motore per scaldare il carburante prima di immetterlo. E addirittura, curiosità incredibile, il Concorde, ve lo ricorderete, aereo supersonico bellissimo, che in quanto supersonico e quindi velocissimo, con l'attrito dell'aria, pensate, la temperatura delle ali arrivava a 200 gradi, il Concorde aveva proprio un sistema che faceva circolare il jet A1 nel perimetro esterno delle ali, in modo da raffreddare le ali, e in modo da scaldare il jet A1. Tutto gratis, semplicemente con l'attrito dell'aria. Una cosa in più che serve al jet A1 perché è di solito utilizzato da aerei più grossi, gli aerei a jet che vanno a quote più alte perché sono quelli dei voli di linea magari e a quote più alte fa più freddo. È anche molto importante che oltre ad essere poco volatili e quindi quando fa caldo fa poco vapore, quando fa freddo però non devono fare effetto cera, la wax temperature, la temperatura di cera, cioè non devono impastarsi, non devono diventare solidi perché è benzina, è carburante, ti serve liquido, no? Ed è anche per quello che esiste il jet B. Il jet B è usato poco, tipo solo in Canada, Alaska, in Siberia, nelle parti nord della Russia perché è fatto proprio per lavorare a temperature più basse. Cioè a freezing point è temperatura di ghiacciamento molto più bassa, cioè può operare a temperature molto più basse rispetto al jet A1 però ovviamente di contro è un po' più volatile, ha una temperatura di ebollizione un po' più bassa. Il jet B è praticamente mi sembra 70% di jet A1 e 30% di nafta. Mentre il jet A che si usa solo negli Stati Uniti, non so perché lo usino, forse gli costa un po' meno produrlo. Il jet A semplicemente a differenza dell'A1 ha un 7 gradi di differenza di freezing point, cioè ghiaccia a 7 gradi prima. Però comunque stiamo parlando di freezing point attorno ai meno 47 gradi Celsius, il jet B invece meno 60 gradi. Curiosità, il jet A1 può essere utilizzato nei motori a diesel normali delle macchine. Mancando di lubrificanti, ovviamente ti scalda un po' di più se lo usi come carburante per la tua macchina, proprio perché c'è più attrito tra le varie parti meccaniche e alla lunga magari il rischio di rovinare il motore. Però volendo puoi utilizzare il carburante degli A3 jet nella tua macchina diesel. Soprattutto in motori vecchi che magari sono un po' più tolleranti. Infatti c'è una pratica in alcuni aeroporti di proprio quel po' di carburante che spurghi dalle ali per vedere se è puro e tutte cose, quando hai visto che è puro invece di buttarlo via versarlo nel serbatoio della macchina che magari c'è parcheggiata lì di fianco. Tanto un goccino su un serbatoio interno di diesel non ti cambia niente ed è tutto diesel gratis. Concludo con il Diamond di A40. Bellissimo aereo dal design slanciatissimo mi piace un sacco che è prodotto così come qualcuno dei suoi fratelli maggiori anche bimotore è prodotto sia in versione che consuma half gas sia in versione che consuma jet A1. E voi direte ma è un aereo a elica con i motori a pistoni non è mica un jet? No, però abbiamo detto che il jet A1 è un motore diesel quindi nel 2006 o quando è stato la Diamond o meglio la famiglia proprietaria insomma gente ricca attraverso un'azienda che si chiama Austro che è quella che produce i motori per gli aerei Diamond cosa hanno fatto? Hanno comprato un gigantesco stock di motori Mercedes i motori che ci sono sulla classe A a diesel vediamo il nome del motore è OM640 ne hanno comprati un sacco e li hanno buttati in un magazzino poi man mano che gli serviva a costruire aerei semplicemente toglievano tutti i fronzoli Mercedes attorno al motore ci mettevano la centralina giusta da aereo è un paio di cosettine di contorno insomma lo chiamavano lo chiamano tuttora AE300 oppure AE330 sono le due versioni del motore e lo montano sui Diamond quindi gli aerei Diamond almeno quelli che vanno a Jetta 1 montano i motori della Mercedes classe A letteralmente almeno della classe A di qualche anno fa perché poi Mercedes ha prodotto altri due nuovi motori nel frattempo però certificare un motore per l'aviazione è un disastro infatti hanno speso tipo 50 milioni di dollari per certificare sto motore Mercedes per gli aerei Diamond aereo un po' più pesante sono una cinquantina di chili in più perché la testata invece di essere di alluminio come la maggior parte dei motori per l'aviazione è in ferro quindi ogni motore pesa una cinquantina di chili in più l'aereo pesa un centinaio di chili in più ha una corsa di decollo un po' più lunga un tasso di salita un po' più lento cioè sale un po' meno ripido hanno dovuto anche rifare alcune parti dell'airframe cioè del telaio dell'aereo per reggere questo peso aggiuntivo però hanno fatto degli aerei che vanno a diesel spendendo pochissimo perché il jet a1 costa infinitamente meno dell'afgas e in più un motore a diesel consuma anche molto molto meno rispetto a un motore a benzina il dia 40 ad afgas brucia sui 10 galloni all'ora il dia 40 a jet a1 brucia sui 6 galloni all'ora di un carburante che costa la metà quindi capite che è un risparmio colossale però nonostante questo sono pochi ad oggi gli aerei di aviazione generale gli aerei non a jet che vanno a jet a1 e con questo si conclude il nostro lunghissimo excurso sui carburanti degli aerei spero che vi sia piaciuto il video intendo pollice in su se così è stato ciao a tutti